C'eravamo riusciti. La crew perfetta nella città dell'amore. Una grande famiglia felice. Non è possibile. Ce l'avevo detto io. Il cibo è una schifezza. Sì, e non cucinano mai a Lalla. La stanza fa schifo, il cibo fa schifo e non si dorme perché è tino russo. È un trombone. Sì, hai ragione. Io non russo. Sì, che russi. E dai, Ash. Sei il nostro leader o sbaglio? Sì. Risolvi il problema. Ragazzi, ragazzi, lasciate in pace, Ash. Avete fame? Sì. Riempitevi la pancia. Se c'è un problema, io sono il manager. Venite da me. Problema numero 101. Si è intasato il bagno. Stamattina mi piace. Ok, ok. Ragazzi, zitti. Sentite, lo so che le condizioni sono pessime. Ma abbiamo un posto dove stare. Abbiamo da mangiare. Sì, ma non c'è mai... Ma l'alto sto rimediando. Ma abbiamo solo sei settimane per preparare il Final Clash. E dobbiamo essere uniti come una vera crew. Per poter vincere. Volete ancora vincere, vero? Sì! Vogliamo, vogliamo! Mangiamo! Grazie! 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 Grazie a tutti.